Una delle esperienze più importanti Questa è stata per me il incontro con i volontari, circa 20 mila giovani, proprio nel donare il loro tempo e la loro forza lavorativa, avevano trovato il tempo, la vita. Questa è stata per noi, per noi veniamo a te. Dato la vita per noi. La vita per noi sono un sacerdote, ma mi sembra di tutto di questo, di tutto di tutto, è sempre stato di Gesù, non di Gesù. Sì, abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo detto che quando ci siamo in Spanielsku, che non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo, quindi abbiamo fatto tutto questo. Faccio il bene è bello, Occorre soltanto osare il salto.